Altri sette posti letto per la terapia subidensiva a disposizione per l'emergenza pandemica in atto sono stati inaugurati questa mattina nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila diretto dal primario Alessandro Grimaldi. Questo secondo lotto si aggiunge al primo attivato recentemente che porta a 15 posti letto che il reparto in caso di necessità può utilizzare per accogliere i pazienti con necessità di ventilazione non invasiva cioè al di fuori dei casi in cui debbano essere intubati. Un servizio importante per tutti gli utenti della provincia dell'Aquila e non solo soprattutto in questo momento dove il trend negativo della curva epidemiologica si concentra proprio sulla provincia aquilana. Oggi si completano con questi ulteriori sette posti letto la dotazione di subintensiva all'interno del reparto di malattie infettive che costituirà un'ulteriore offerta di intensità assistenziale per i pazienti covid. E' chiaro che oltre ai posti letto che abbiamo recentemente attivato di subintensiva presso l'ospedale di Avezzano, questa serie di posti letto qui all'ospedale San Salvatore va a completare questa offerta, questa disponibilità di posti appunto per tutti i pazienti della provincia ma anche qualora dovesse arrivare da fuori provincia o da fuori regione. Soprattutto noi qui faremo ventilazione non invasiva quando ci sarà richiesto, speriamo che pochi abbiano bisogno di questo però se accadrà noi siamo pronti quindi si potranno diciamo i pazienti sottoporre a questa ventilazione non invasiva con i caschi, le CPAP e così via. Quindi è un'ulteriore dotazione tecnologica dell'ospedale San Salvatore ed è un piccolo patrimonio di tutta la città dell'abbile.